Allora torniamo in studio con queste dolci note del suo cuore caldissimo che adesso sta dormendo appoggiarci una canzone che rimanga tutto il tempo, tutto il tempo oltre il tempo, Erminio. E oltre il tempo sì, questa è una canzone che ho scritto perché volevo fermare, allora tre mesi fa ho avuto lo sviluppo io, nel senso mi sono sposato. Una scelta proprio non pensata. A 61 anni ho deciso di sposarmi e ho dedicato questa canzone a mia moglie perché volevo fermare quegli attimi, quelle sensazioni in musica, cioè ricordarmene con quelle immagini, con proprio quell'effetto. Fotografare quel momento? Sì, sì, fotografare il periodo più che quel momento, il periodo. Chiaramente non è, potrebbe essere una presunzione, però era la stessa cosa che credo sia successa con i ragazzi che si amano di Prever, che non ci sono per nessuno. Beh, si dice anche, l'amore non è età. Ah, con me no. Con me no. Vedi, questa è un'altra cosa che poi mi hanno detto, ha detto il mio, ha dato una speranza anche per chi ancora non si è sposato. È vero, prima quella della seconda opportunità canora, insomma artistica e ora quella amorosa. No, ma sono tutte e due belle cose, quindi sono felice di aver dato questa sensazione. Assolutamente sì. Allora, prima parlavi di? Dell'Euro Song Contest. Sì. Perché? Perché tu hai partecipato alle finali per partecipare all'Euro Vision Song Contest, non Euro Song, pardon, con la Romania. Sì. Com'è possibile? Guarda, io in Romania ho fatto diverse cose, ho fatto diverse cose. Addirittura l'anno dopo dell'Euro Festival ho fatto anche il giudice al festival più importante dell'Est Europa e lì ho partecipato e ovviamente abbiamo anche rischiato insomma di rappresentare la Romania e all'Euro Festival, però è gente molto preparata. Apprezzano molto nell'Est Europa la musica italiana. Ma il talento secondo me? Sì, secondo me c'è un'altra cosa. Loro chiaramente col periodo storico che hanno vissuto gli manca tutta la parte che noi degli anni 70, anni 80, quindi sono molto proiettati verso quello, infatti anche per recuperare, musicalmente a livello tecnico non sono dei mostri, c'è gente preparatissima, gente intonata, tecnicamente il massimo e quindi cercano di chiaramente di un po' scimmiottare quello che è nel mainstream, no? Certo. Però sono molto bravi. Tu hai cantato dappertutto, Stati Uniti d'America, Giappone, poi Buenos Aires, quindi in Argentina. Quattro anni ho abitato in Buenos Aires. Sei stato in Argentina, infatti poi è uscito anche un CD nel 2017. Quanti chilometri sono? No, quello è il 2006, 11167 chilometri. Che è la distanza che collega Buenos Aires e Fiumicino. Sì, l'aeroporto di Buenos Aires e Fiumicino, che non sapevo come intitolarlo, poi stava decollando l'aereo, visto chilometri a destino, c'era scritto e ho detto lo intitolo così. Allora, io Erminio lo conoscevo già perché suonava in un locale, e suona tuttora, in un locale di Roma, la cosa che stupisce è che questo cantautore, a differenza di molti altri che si preparano nel momento in cui vanno in onda, lui viene con largo anticipo, con le prove a suonare, a suonare, a suonare, e delizia tutti i camerieri, tutte le persone che si trovano dalle 5 alle 11, mezzanotte e ancora, ancora, ancora lungo la notte, e l'ipnotizza con la sua musica, e le prove iniziano alle 5, i lavori iniziano alle 5. Sì, ma soprattutto, no, no, io credo che ci deve essere un rispetto verso le persone anche che vengono a sentirti, ci deve essere un rispetto, quindi tu devi dare il massimo, e dato che da te aspettano un'emozione, cioè tu devi avere perlomeno tecnicamente tutto a posto, quindi invece di andare due minuti prima, io vado sempre, cioè quando vado fuori vado il giorno prima. Eh no, eh, capisco, capisco. Questo è proprio, cosa vuol dire, essere e vivere da artista, cioè non arrivare all'ultimo momento, non arrivare mai impreparati, non arrivare mai con l'acqua alla gola, cioè prevedere ogni singolo passo, passo dopo passo. Anche perché l'insidio è dietro l'angolo e facendo così si prevede l'insidio e quindi si va incontro ad un successo. Io credo sempre una questione di rispetto, una questione di rispetto verso chi è che paga dei soldi per venirti a sentire. Esatto. Questa è la cosa più importante che tu possa fare per rispettare, ecco, le persone cercano parcheggio, piove, insomma, non è soltanto venire là dentro, capito? È vero. Senti, prossimi obiettivi, prossimi lavori, prossime pratiche? Guarda, sto preparando, sto preparando col gruppo il tour estivo, perché io faccio due cose musicalmente, faccio l'intrattenimento che mi diverte perché è uno dare avere con la gente nei locali, tipo Profumo, insomma, in giro per qua, e più c'è il concerto, quello del 2017, è il disco doppio che è uscito, che è il disco live, e il concetto è di canzoni mie, dove racconto le mie storie, ora ho incluso anche le canzoni che ho cantato a The Voice, in modo da raccontare un po' tutta la mia storia. Sto scrivendo un libro, sto scrivendo un libro perché mi stanno dicendo che la mia storia dietro a un pianoforte è stata molto interessante. È vero. Lo sai per cosa è stata interessante? Perché ho visto, da dietro al pianoforte, ho visto fare e finire governi. Cioè, io stavo, io stavo, io stavo, sì, io sono stato 12 anni alla Cabala, la Cabala è stata negli anni Ottanta, credo, il locale più bello del mondo proprio, dove succedeva di tutto. Quindi ci ho avuto questa possibilità di vedere da vicino le cose. Proprio da lì, da quegli anni Ottanta ad oggi, insomma, quanto cambia tanto, cosa però è cambiato? Soprattutto la musica anche. Il modo di ascoltarla. Il modo di ascoltarla, il modo di parla. Sono cambiate le persone, più che è cambiata la musica. Guarda, io ti dico, dal punto di vista di locale, io vedo che i ragazzi, i ragazzi giovani, vengono e ascoltano il repertorio, è quello di 40 anni fa, non esce più una canzone a modo, non si sa perché. E chiedono questo. Per quanto riguarda il saper, il divertirsi, è diverso, perché quello che succedeva negli anni Ottanta, se io lo racconto, vi ricordate il film di Verdone e Docemano e il Fantoni? Ecco, insomma, i colossi della musica, ricordo. Cioè, pare che tu racconti fesserie, capito? Allora stai anche zitto, perché succedevano delle cose, cioè succedeva che una sera, ti dite solo al tartaruchino, arriva David Bowie. Una sera, ai tempi di nove settimane e mezzo, alla cabala, entra, giocò, che canta insieme a me, Liza Minelli. Cioè, ti voglio dire, queste sono cose, ora arriva il quarto vagone del trenino di Maria De Filippi, sembra che arriva un premio Oscar, cioè con tutto rispetto, capito? E quindi, era un altro mondo, era un altro... Generazioni a confronto, comunque. Generazioni a confronto e poi anche il modo, forse, di fare musica. Perché, come hai ben detto, ad oggi canti i vecchi ricordi, canti i vecchi brani, perché nonostante siano le generazioni in pista molto giovani, siano le ultime generazioni, ricordano quelle che erano le... hanno fatto la storia della musica, adesso però non c'è la rigenerazione dei brani. Non lo so, guarda, io ti posso raccontare una cosa. stavo andando a Ponza e nell'iscafo c'era, ad Anzio, c'era un ragazzo, c'era avuto 23-24 anni, che è tutto un gruppo, non fa la foto con me. E c'è una canzone mia che è abbastanza conosciuta e io gli ho detto, scusate, ma voi perché ascoltate le canzoni mie? c'è, ma proprio... e lui mi ha risposto perché parlano di storie che non avremo possibilità di vivere. Mi è rimasta impressa questa frase. È vero? C'è, mi è rimasta impressa, dico, come mai, questi c'hanno tutto, c'hanno la freschezza dell'età, tutto, la vita è così bella che io sono stato uno di quelli che non era mai contento, figurati, tornassi indietro ma assaporerei anche le cose brutte. Tornassi indietro, cosa invece riassaporeresti? Cosa ti è mancato? Non solo nel tuo cammino da artista, ma nel tuo cammino da... Di vita, no? Guarda, la cosa che ho rinunciato per poter realizzare il mio sogno di fare il canto autore è quella, purtroppo, di un figlio e spero di riuscire a rattoppare la situazione in fretta. però, ecco, solo quello, perché il resto, anche il fatto, anche quello che è successo dopo Sanremo e tutto, anche il periodo più buio, eccetera, ha fatto sì che io diventassi una persona molto migliore di quella che ero. Quindi è bello così, forse ci sarebbe stato un imbecillo in più in giro per il mondo se fosse successo questo. Servono i periodi, prima di salutarti, in cui il telefono non squilla? Serve, come serve la noia per i ragazzini, come serve la solitudine. Serve perché lì hai possibilità, secondo me, di fare il punto della situazione e... E di avere tempo per farlo. Deve avere tempo, deve anche assaporare la noia, perché i bambini in questo momento nella noia non sanno cosa sia. In quel mondo, il mondo dello spettacolo, che tu conosci molto bene, anche della musica, soprattutto della musica, quanti cattivi consiglieri, quanti falsi amici esistono? Sempre se esistono le amicizie. Non lo so. Diciamo che è un bel mondo, va bene? È un bel mondo, vario. Un bel mondo pieno di bello e di gusto. È bellissimo, bellissimo, è un bellissimo mondo. L'importante è non cascarci dentro. Ah, questo assolutamente... Io sapevo che mancava la parte finale. Assolutamente d'accordo. Allora, un'ultima, ultimissima domanda. Cosa ti aspetti dal tuo futuro album? Guarda, io ho oltre 500 canzoni inedite. Ah, poche, insomma. Sì, no, perché... In cassettino. Ho avuto la fortuna di non essere bello e quindi invece di fare le foto, come fanno tutti... Scrivevo canzoni. Si scriveva canzoni, quindi... E ho avuto anche la fortuna di vivere molto, di avere tante esperienze, di avere... E l'ho sempre, come si chiama, rispettate e portate dentro. Quindi cercherò di fare delle cose belle. Mi aspetto, c'è qualcosa che ho fatto contro la violenza sulle donne. C'è un libro che stavo scrivendo, appunto ti dicevo prima, che darà il titolo anche allo spettacolo teatrale che andrà da ottobre in poi. E niente, cercherò di restituire tutta la bellezza e la verità abbattata. Hai parlato di violenza delle donne. Adesso siamo in un momento, come tutti ben sappiamo, di guerra. Ecco, serve la musica in un periodo come questo? Serve la musica per portare anche pace, pace negli animi? E lanciare dei messaggi, come la canzone di John Lennon qualche giorno fa, è andata in radio e ha congogliato... In airplay, insomma, l'abbiamo ascoltato. Sì, sì, guarda, ti dico, la musica serviva negli anni 70, tempi del Vietnam, dove facevi quei grandi raduni, dove c'erano veramente i musicisti di tutto il mondo. Adesso sembra più qualcosa di orchestrato a tavolino per avere i like. A me quello che si mette al pianoforte e suona a John Lennon... Non ti dà qualcosa di più. No, no, mi sembra una cosa più per se stesso, perché sinceramente tu per sensibilizzare potresti fare tante cose, specialmente i cantanti molto più famosi, loro possono fare molto. Poi chiaramente ognuno nel suo picco cerca di fare anche buona fede. bisogna sentirsela anche, insomma, avere le giuste proporzioni delle cose, le percezioni di quello che accade intorno a noi. C'è un artista, abbiamo detto che era l'ultima domanda, in realtà siamo dei bugiardi, visto che ne abbiamo fatte altre 5-6. C'è un artista di ora, che adesso è in auge, è in airplay, come si vuol dire, con cui vorresti collaborare, ti piacerebbe collaborare? E non puoi dire la Bertè. Guarda, ce ne stanno diversi, ce ne stanno diversi. Un artista in questo momento, che io l'apprezzo un artista, ma ancora di più come brava persona, è Clementino. Clementino, inaspettato, mi aspettavo Massimo Ranieri, non so perché. No, ti dico perché, perché è un gran bravo. L'ha conosciuto a The Voice Senior, immagino. Si, l'ho conosciuto, ed è un ragazzo veramente con cuore enorme, ed è vero. Lui è anche partito. Sì, sì, ma c'è bisogno, io ho quello che sento il bisogno, ho sento il bisogno di trasparenza, di verità, capito? Ho sentito il bisogno che quello che tu dici corrisponde alla persona che sei. Ecco, Clemente è così. Però ce ne stanno tanti altri, insomma, non è che c'è solo lui. No, no, però di cuore, distinto. C'è distinto, di cuore ti dico lui, lui è una gran brava persona. Bello. Sono messaggi tra artisti, non velati, perché ce l'ha proprio detto. Clementino, facciamo una collaborazione. Sì, no, no, ma a prescindere se lui la voglia fare o meno, cioè te lo dico proprio di cuore. Lo dico col cuore. Ultimissima, il tuo rapporto con i social. Beh, è determinato. Perché prima hai detto, per prendere, alcuni si mettono al pianoforte, cantano canzoni di un certo tipo, di un certo spessore, anche culturale. No, 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 ho detto una cosa sulla pace. Sulla pace. Sulla pace. Beh, a me, ecco, sui social tu, io l'ho fatta tante di dirette. In realtà la gente mi ringraziava, ci fai compagnia, ma in realtà loro mi facevano compagnia. A te. Capito? No, no, sui social tu è giusto che tu vai a fare le cose. A me mi dà fastidio quando arriva quello, monta il pianoforte là in mezzo. E si mette lì. E va a pontificare, va bene. Non capito, cioè... Non serve. Messaggi più concreti, messaggi che possono arrivare in maniera diretta. Poi ognuno faccia il vuole, per carità. Sempre libero. Ma mi hai domandato le tue risposte. È giusto, è così, è. E questo fa parte del gioco. Allora, noi ringraziamo veramente di cuore per essere stato qui con noi, Erminio Signi, cantautore. Maestro, ci rivediamo. Uno di voi mi tradirebbe. No. Maestro. Ci rivediamo, ci rivediamo. Torniamo tra poco, pubblicità.